Tamponamento a catena lungo la strada statale 16 tra Fano e Pesaro al chilometro 254 e 200 poco prima della Gimarra nella tarda mattinata di oggi. Quattro i veicoli coinvolti, tutte autovetture e senza nessun ferito. Alle 11 e 50 in un'ora considerata di punta una Toyota Yaris condotta da un fanese che procedeva in direzione Ancona ha tamponato per ragioni ancora al vaglio della polizia locale una BMW 320 condotta da un turista romano di 59 anni con un passeggero a bordo che per la spinta ricevuta ha tamponato un altro BMW 530 che si trovava a fermo davanti a lui con a bordo una famiglia del milanese padre alla guida e moglie figlioletta di tre anni regolarmente seduta ed assicurata sull'apposito seggiolino di sicurezza. Per l'inerzia dell'urto anche il 530 ha tamponato a sua volta l'auto di fronte, una Golf con a bordo tre coetanei condotta da un cittadino straniero ma residente da tempo a colli al metauro di 24 anni. Nessuna conseguenza fisica per nessuno degli occupanti dei mezzi coinvolti, solo la famiglia della piccola dei tre anni ha portato autonomamente al pronto soccorso della città di Fano la bambina per accertamenti. Data l'ora e l'intensità del traffico si sono registrati lunghi incolonnamenti sulla statale maggiormente sul versante pesarese dove la colonna ha raggiunto anche alcuni chilometri di lunghezza. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Fano, una per i rilievi di legge ed una per regolamentare la viabilità.